Sto minuciando, campo Morone. Sì, voglio dire, sono chiuso al portone. Guarda la porta, qui è. Solo che è chiusa, ho provato a fare il giro. Cosa... Dalla porta, dalla porta di indresso qua, dove c'è. Devo ritirare una targa smarrita. Siamo pronti! Come va? Ah, ecco! M'ha detto Marco, chiama un po' la Claudia e fatti dire se nevica. Via! Nevica di brutto, attaccata, attacca. Tutto bloccato. Il traffico in tilt. C'è Marco, stanno nevicando come una madonna. C'è Marco che è in crisi. È in crisi perché abbiamo lo spider. Noi abbiamo lo spider. Devo dire ai nostri amici youtubers. Abbiamo lo spiderino. E c'ha le gomme, eh, nell'estate. C'ha le gomme con salvagini. E quindi non sappiamo... Non sappiamo se teniamo un vieto o meno. Ahahahah! C'è Marco Bonone dai vigili che hanno trovato la targa. Oltretutto non ci... Non ci sono... Non ci sono i vigili, ci fanno aspettare qua fuori. Siamo all'aperto, al freddo e al gelo. Sembravamo il buo e l'asinello, c'è un bambino in mezzo. E siamo appena andati al bar. Allora vediamo. Vabbò. Dai. Ciao tesoro, ci vediamo dopo. E non lo so, se riusciamo a venire giù, fra un po' partiamo. E la macchina poi mi accompagna a Marchino e poi vado. Per colpa a venire. Vabbò dai. Ciao tesoro. Ciao. Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti.